Era chiaro che l'Accademia si affiacciasse con tutti i propositi più opportuni. Siamo in una stagione nella quale, visto quello che si sta verificando, è giusto che tutti gli enti di Stato, ma specie quelli di formazione terziaria, cominciano a dare un senso compiuto a cosa significa un rispetto verso l'ambiente, un equilibrio e finalmente un accompagnamento di un modello di vita più sostenibile. Sono piccoli segnali per i quali noi vediamo che gli allievi rispondono copiosamente, sono sempre presenti e sempre ben felici di accompagnare. Sono già diverse le occasioni nelle quali il cinquantennale dell'Accademia, approfittando di questi festeggiamenti, mette al centro quello che dovrebbe essere finalmente un modello di vita molto più congruo. Abbiamo fatto in modo che fossero gli allievi a optare delle scelte, verso quali alberi piantumare, ma questo lo ritengo, come inizio di un'azione da semina. Mi auguro, ma non ho alcun dubbio, che questa operazione si possa ripetere e possa coinvolgere anche i privati. È un'occasione grazie alla quale noi presenteremo quella che finalmente è la seconda sede, la sede che ci consentirà di allestire laboratori, che a onore del vero sono già operativi, abbiamo fatto un lavoro abbastanza importante nell'arco di pochissimi giorni, che è già operativa alla sede, e quindi siamo ben felici di profittare dell'occasione. Questa iniziativa fa parte di un progetto che sta portando avanti il raggruppamento biodiversità dell'arma dei carabinieri per promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale. Poiché tutelare l'ambiente non basta l'attività di repressione, ma è importante l'attività di prevenzione, allora si è dato vita, insieme soprattutto con gli istituti scolastici del territorio nazionale, un progetto di educazione ambientale denominato Un albero per il futuro. Attraverso questo progetto si voleva sensibilizzare gli istituti, e quindi i ragazzi dell'istruzione, istituti primaria, secondaria, secondaria e superiore, e anche altri enti e associazioni, a promuovere la messa a dimora di delle piantine e su questa attività creare un percorso didattico formativo per i ragazzi con il contributo degli specialisti e dei carabinieri forestali che gestiscono tra l'altro delle aree protette di particolare importanza, sono 130 riserve naturali nell'ambito del tutto il territorio nazionale. Qui in Calabria, a Catanzaro in particolare, il reparto di Catanzaro gestisce, amministra le foreste demaniali e le riserve naturali che si trovano all'interno del Parco Nazionale della Sila, che costituiscono un patrimonio naturalistico importante, e insieme a questa attività noi facciamo appunto divulgazione, portando avanti questo progetto e oggi siamo qui anche grazie all'interessamento del direttore dell'Accademia Belle Arti di Catanzaro che ha voluto inserire l'Accademia in questa rete che sta realizzando un bosco diffuso su tutto il territorio nazionale. Insieme quindi doneremo delle piantine alle quali gli studenti dell'Accademia daranno un valore aggiunto di promozione della cultura essenzolato, della cultura del bello, e poi inseriremo anche l'Accademia in questa rete di legalità donando una talea dell'albero di Falcone. Si tratta di un'altra attività, un'altra iniziativa che stiamo portando avanti sul territorio nazionale per distribuire queste talee che provengono proprio da delle gemme che sono state prelevate e curate nei centri di diffusione della biodiversità dell'Arma dei Carabinieri, provengono dalla pianta che si trova sotto l'abitazione giudice Falcone e quindi sono state realizzate dalle gemme delle talee e vengono distribuite agli enti, alle scuole, alla società civile in modo da creare questo bosco diffuso della legalità che si unisce a quello dell'educazione ambientale che stiamo portando avanti. Sicuramente è un onore far parte di questa iniziativa e comunque aiutare questo progetto di piantare questo simbolo che rappresenta un po' il ricordo di quello che è stato il giudice Falcone ma anche in generale di tutte le vittime di mafia. Mi fa piacere, sono contento di essere il rappresentante di questi studenti che non devono mai abbandonare la strada che hanno intrapreso i giudici Falcone, Borsellino e tutti gli altri che hanno combattuto la mafia e che ancora la combatte. Abbiamo deciso di prendere parte di questa iniziativa sia fisicamente, quindi piantando veramente queste piante sia anche a livello metaforico e simbolico per indicare che dobbiamo mettere radici e prenderci cura anche dell'ambiente sia per sensibilizzarci anche sia noi che poi porteremo questa esperienza anche fuori dall'Accademia e potremo sensibilizzare anche noi le altre persone.